Mago di Azz e Friends TV presenta Come cambiare la tua vita in un anno 365 giorni per raggiungere il successo Giorno 4 I 13 cicli dell'anno Sono un mago e lo so benissimo quello che stai pensando Chissà che cos'altro si inventerà oggi E poi, ma come riuscirà a inventarsi in una raccolta di 365? Bene, devi pensare che molta gente, compreso il sottoscritto, paga o ha pagato un sacco di soldi per imparare questi piccoli segreti e tecniche che per te sono praticamente gratis Comunque, oggi voglio insegnarti la tecnica dei più grandi venditori che trasformano i 12 mesi in 13 cicli Troppe volte ho sentito dire non ho mai tempo per fare questo o per fare quello Ci vorrebbe una giornata di 25 ore ed avere un'ora solo per me Ci vorrebbe una settimana di 8 giorni ed avere un giorno solo per me Bene, adesso ti farò vedere che hai 13 cicli così potrai decidere di averne uno solo per te Primo ciclo, dal primo al 28 di gennaio Secondo ciclo, dal 29 di gennaio al 25 di febbraio Terzo ciclo, dal 26 di febbraio al 25 marzo Quarto ciclo, dal 26 di marzo al 22 di aprile Quinto ciclo, dal 23 di aprile al 20 di maggio Sesto ciclo, dal 21 di maggio al 17 di giugno Settimo ciclo, dal 18 di giugno al 15 di luglio Ottavo ciclo, dal 16 di luglio al 12 di agosto Nono ciclo, dal 13 di agosto al 9 di settembre Decimo ciclo, dal 10 di settembre al 7 ottobre Undicesimo ciclo, dall'8 di ottobre al 4 di novembre Dodicesimo ciclo, dal 5 di novembre al 2 di dicembre Tredicesimo ciclo, dal 3 al 31 di dicembre Nella vita, tutto è un ciclo Ha un inizio e una fine Questi sono semplicemente 13 mesi da 28 giorni più 1 Questo metodo è usato dai grandi venditori di altissimo livello E serve a guadagnare 2 o addirittura 3 giorni in un mese Se utilizzerete questo ciclo, sarete un passo avanti rispetto agli altri Buon ciclo a tutti! Ciao, ci vediamo domani, sempre qui Da Mago di Azz e Friends TV